Brutto episodio di vandalismo a Battipaglia dove alcuni giovani approfittando del carnevale hanno imbrattato il volto dedicato a Paolo Borsellino, il magistrato ucciso nel 1992 in un attentato mafioso. Il fatto di cronaca si è registrato nella piazza intitolata a Borsellino tra la serata di ieri e questa mattina. Forse sono state utilizzate delle bombolette di stelle filanti, un episodio che ha scosso la coscienza dei battipagliesi. Sull'episodio saranno avviate le indagini del caso anche per verificare se tramite qualche filmato si possa risalire agli autori di tale vile atto vandalico di pessimo gusto.